Ciao a tutti ragazzi, sono Capuchito Ancora, brutto schifoso Sei un mona, per me sei un mona tu che ci guardi lì così al sicuro in quel vetro, tutto super compatto Anzi guarda io mi alzo, affangala, cioè mi alzo, crepa Io te lo faccio apposta Adesso ti ammazzo Ah beh si, premuto spazio e sono ritornato lì Comunque siamo Ok, pensi che Vitor Resno sia tuo amico Ok Ciao a tutti ragazzi, fammi parlare brutto coglione Io sono Capofigo e oggi siamo tornati qui su Call of Duty Black Ops La campagna Ed eravamo, avevamo praticamente tipo resistito, beh resistito in maniera comunque siamo molto Motorozza Ad un attacco vietnamita, sì Eh sì, perché adesso siamo in Vietnam Comunque sia Eh, praticamente Sì, eh, dobbiamo controllare questo coinvolgimento e questo disertore russo si pensa sia stato ucciso in una città Che è stata completamente rasa al suolo Mi fai parlare, sto ricordando quello dell'episodio precedente E adesso dobbiamo andare a salvarlo anche se si pensa che sia morto Quindi adesso andiamo a salvarlo Sì, infatti adesso ci verrà detto quello che succede con il video Oggi le comunicazioni sono nel caos e i voli commerciali in partenza dall'aeroporto sono stati cancellati L'offensiva di Capodanno fu l'inizio della fine Vedi? Da allora l'America iniziava a perdere la guerra Detro il complesso Marvy di UE Hai stabilito il contatto con il disertore russo Do Invece sì, si è consegnato a voi nel Marvy Ere lì in peso Aveva le informazioni su Dragomic, tutte Ma è stato inutile Chiudi con la bocca L'NBA ci è fondato la città Trabendo al suolo il Marvy Il disertore era sicuramente morto Non era morto Era una causa persa ma sei andato a cercarlo Perché? La sua scorta non rispondeva a me Non accettavo che fosse morto Mi serveva col tassiere Ok Quindi La missione numero 20 8-5-2-8-5 Destinatario Oscar 2 è stato in grado Non possiamo perdere il disertore Sottesimo La squadra è stazione mese Unitata da un incasso Oggi C'è una migliore di fibra mese Dobbiamo recuperare un disertore Con informazioni vitali Sul coinvolgimento sovietico in Vietnam Ok Abbiamo perso il contatto Con la sua squadra di sicurezza Potrebbero essersi trincerati Nella camera blindata del Marvy Oddio Stiamo lì Lo proveremo Se è vivo Squadra Soge X-3 Aganciarsi Figata Si è però adesso crepiamo Con la sua squadra Oddio Sta Oddio Oddio Che fortuna Non abbiamo preso No Oddio Che grandioso Oddio Tripla Tieni lo spas 12 Per le granate incendiari Dove andiamo Mason Eh sono io il capo Quindi io direi di Andrani puttane Che è un lao C'è un lao È un lao È un lao Spara Che cos'ha le munizioni esplosive Figata Quindi Ok bene adesso che sappiamo cosa fare Controlliamo Che non ci siano informazioni O roba di quel tipo No normale Oddio Non capisco Ma è tipo brucia Ma boh forse brucia Chi lo sa Commando Che abbiamo ammazzato un civile Oddio Grande Grazie Forza a muoverci Ok Dragon's Brief Togliersi di mezzo Via Ha Oddio Oddio Angola nord-est Arriviamo Brucia 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 Punto Che abbiamo ammazzato un civile Ma non c'erano questo La sala comunicazioni È pieno di sotto Pensi che il disertore Si è sopravvissuto all'attacco Ma è così È un figlio di puttana Bello tosto Buona I once in 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 one Lo mi fa sprecare Madonna C'è pocaria nel mondo Lo capisci? Ce n'è davvero poca E Di uccidere i civili Di uccidere i civili Ah quindi non è No Quale sentenza? Ah stai zitto i civili I civili I civili Civili appunto Vabbè se il dragon's base è troppo potente Noi Prova ad ammazzare un altro Pochi ne sono sopravvissuti Non ne sono Siamo bravi a salvare Morto morto si l'abbiamo capito Passo 12 La camera blindata è laggiù Perché utilizzerebbe calibro 12 Cioè palettoni 12 Però Noi abbiamo questo che brucia No no Non andiamo avanti un cosmo Crepa 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 Fuoco La camera blindata è stata violata No no Tu col fucile a pompa crepa Versaglio a terra Versaglio a terra Vai Dove è il tuo contatto? Deve essersi rifugiato nella sala comandi Forse è ancora vivo Andiamo Seguiti Fega Eravamo in una banca Fega Cioè se non bruci il banca sei un po' john Mi rompi Ehi Ok posso utilizzare più proiettile per una persona sola Poveraccio Le camere blindate sono dall'altra parte della sala tattica Che voglio distruggervi Perché non è Perché non perdete pezzi di co No però No Moriamo un po' troppo Eccoci la banca Forse è ancora vivo Andiamo Seguitemi Ok Oddio Le camere blindate sono dall'altra parte della sala tattica Ok aspettiamoci tizi Oddio no Ok io vado vicino Gli faccio esplodere le bidelle Tutto Gli faccio esplodere Oddio guarda che figata Inbordatore esplodevano tutti Cioè Ero mega Scappa Levati schifoso Ho la mia stessa idea Quindi ho l'intelligenza di un bot Che checkpoint è raggiunto Ehi 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 2-1 Siamo andando avanti No 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 cosa RPG qua dentro Ma sto scherzando Crepa 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 Libero Limaneiner Rapporto X-Ray I nord vietnamiti hanno ripreso il Mach V Sud Siete tagliati fuori Ok Ok Ricevuto Limaneiner Se volete andarvene è meglio che vi ti ha tu la mossa Andiamo Così faremo Dovrebbe essere in una di queste stanze Maison Va alla porta in fondo al salone Noi Save me Motherfucker Ecco Di questo Chi è? Maison Resnov Resnov Come sei fuggito da una cota E' vivo Neanch'io amico mio Resnov Ho con me un messaggio Che il tuo governo farebbe bene ad ascoltare Quindi è lui quello che ci doveva dare Il Dragovic Vuole attaccare l'occidente MESON Hai trovato quello che cercavi? Dragovic Sapevo che non era finita Ok Qui ragazzi abbiamo il Dima Abbiamo il Dima Nelmeno il Cremlino conosce le sue vere intenzioni Ti batte Fidel III soltanto che qui Bisogna fermarlo MESON Dragovic Cremlino se non si fa io Steiner Devono morire tutti Ok Devono morire tutti Ok Se ne so dai tuoi uomini Boots Booman Io sono Resnov Victor E' son perché ci hai messo tanto Speriamo che ne valga la pena Limaniner Dove cazzo è il nostro passaggio? X-ray aventi I marini sono impegnati in uno scorso pesante a Ovest del Macri Ci vediamo al punto di ritrovo delta Due chilometri a nord del piume Ci saremo Venete di lontanare L'esercito popolare del Vietnam è qui per liberarmi Ci servirà supporto aereo Ma che cazzo dicono R.T. Texas Qui One Five Ci serve supporto aereo immediato Lo fammelo usare a me Ehi Dammi quella radio Ehi Dammi quella radio E tu sei troppo handicappato Dammi quella radio e basta Beh tanti auguri Texas Qui Sierra Oscar Golf X-ray A mio ordine Sperare attacco Priorità 1 Autenticazione Golf Su Basso Tutto chiaro X-ray attacchiamo Dai Oddio 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 Ok qui crulla tutto Bruciate brutti C'è Fee Eh sì è quello Cosa avete? Aspettate un secondo Che c'è Tobi qui dentro Nope Ok Tobi è il mio cane Ah si può Si può Ma è il nostro nemico O non è il nostro nemico Ah ok ho capito Il nostro nemico Sei Sei Ah non si Ah bersaglio è trascuticino Avversario D'arrile Una chissara Ok Ok Atto Va bene Noi Bersaglio eliminato Andiamo avanti Ma che Oddio un cesso C'è un lavandino Su cui probabilmente Ammazzano Non mi saremmo aspettato Di trovarlo qui Sei Sei Accida L'apici è andato C'è un caldo del cazzolo Oh zio Zio No veramente ragazzi C'è troppo caldo Per poter Per poter Respirare Parlare O fare comunque Altra roba Che Sia legata ai polmoni Insomma Oddio santo Io posso fare una cosa Dove già non lo sapevi? Ok L'apici è andato C'è un carro del cazzolo Da fuori Faisal Segnala sotto un nemico A Vickford Zulu Seven Foxtrot Ricevuto X-Ray Attendete il passaggio Degli aerei Versaglio a terra Ricevuto Contatto a terra X-Ray Stiamo arrivando Cosa? No Qui non è fida Si è però No ma che cazzo Obbettivi aggiornati Forse abbiamo fatto il check point No dai Ricevuto X-Ray Attendete il passaggio degli aerei Ok spagliamo Spagliamo Questo è importante X-Ray Stiamo arrivando Va bene Sì Fate qualcosa Spagliamo Spagliamo X-Ray Muoversi Carro distrutto X-Ray potete avanzare Eccellente L'andora ad aterrata è a mezzo chilometro In fondo alla strada Ok Ah il fuoco No no Non ci siamo capiti noi amici Pace Magari incontriamo anche Forse Gun Ordina l'attacco su con gli edifici O qualche settimana Un paio di settimane fa Che padre Tu ne hai visto Una settimana falli in circa Non è piaciuto troppo Ok si Si ammazza lì eh Non è che ce li hai davanti E tu li lasci stare Non siamo mica in Call of Duty E' a terra Andiamo Sei Dexas attaccate al mio segnale Tutto chiaro Estrella Attacchiamo Pergine di dolore Mi piace questa cosa Pergine di dolore Vabbè ma basta col Basta col Basta così Rt Rt Cosa Rt Helicotteri Stacorri Bene Ah aiuto Uffio Shane Watson Gioca a Schilla Dopo lo cancello Ok io lo sto facendo No Cielo Levate di dosso brutto coglione E' morto Noi dobbiamo continuare la nostra causa americana Perché siamo troppo orgogliosi di zero zio Sam Civile E' morto Bessi qui sta lì Ok non ci siamo capiti noi Eccolo qui mio Bastardi Un'altra vittima E' tu Eroi Anche No Che cazzo Non riuscivo a crederci Resnob era away Ed era il disertore Era tornato per te Mason Resnob era tornato Resnob è un grande amico Sei tutto intero amico mio Sto bene Mason Stai bene fratello Respiro ancora Ci vediamo al punto di raduno Raduno finalmente si va via Si porta via il culo da questo posto mercio Dimmi di si Quindi a piazzarci qua Piazza Ok questo qua si lancia come se fosse una granata Direi di una roba Aspetta Comando con lancia in granata Famelo caricare Eccolo qui Ecco il nostro passaggio Non ne sono sicuro Che schifo è Che sta roba fa anche laggare sta schifezza Vabbè si è andato Il supporto aereo non può agire mentre facciamo i lavori feriti Ah quindi noi dobbiamo ancora combattere Mi sa che dobbiamo aspettare Preparatevi Voglio che la zona d'atterraggio sia sicura Mason Mina tutto il perimetro I feriti prima Sa 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 Cioè Minare dove abito io È tipo Segati Nel senso Tappa Ecco Dun bai chon 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 Eccoli che arrivano Ma io non ho Qui Quì Quì Poi Poi qua Ciao ciao No 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 Non ti agitare Non ti agitare Madonna Ma io Io Sì caccato Allora Dio esiste Crepa Oltre per lasciare Il mio amore Hai ucciso tutti questi No Ho lanciato una granata per sbaglio Scusa tu che c'è Ah no Lui si è spostato Lui è un po' più intelligente No Si stanno raggruppando No Comando Riggs Ray 1 0 Qua gioia un inferno Dov'è il nostro maggio di evacuazione? La città sta cadendo in mano all'NDA Stanno abbassati l'antri perivoli Lo siete i soli a cercare di andarsene Abbiamo una consegna da effettuare Priorità 1 Ci serve evacuazione Troveremo un modo Mantenete la posizione Soldati americani L'aggressione ai danni della Repubblica Popolare del Vietnam Non resterà impunita X-Ray Evacuazione in arrivo Ma dov'è che parlo? Ci vanno a mano Ehm Cosa ho visto? Che io dico di scappare? Io dico di scappare No Ok Non si può scappare Siamo costretti qui A perdere la pelle Che ore sono? Ok I miei ancora sono tornati male No Il mio dragon sbritti Se morirò Morirò con il mio amore Se morirò Morirò con il mio amore John Sono sempre più vicini Ok Un secondo rifare No però così no Cioè Quello la campera E Vaccati Stagli davanti col caro armato Bella vita no Ho capito 5 5 Sono sempre più vicini Ok Ok ragazzi Per sbaglio Mi è riuscito dalla finestra Da Tutti Mi è riuscito Ok Avevo premuto il tasto Windows Ecco Quello è successo Sicuro Poi vorrei abbassare Ok E' L'arrivo Ok C'è colore Un c'è Giù c'è la barca Sala vicini Avanti Buona Forza Alla barca Fuoco a valentà Salite 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 Dracovic Mi amico Ulzio Popofiero addio tregua di capodanno forse il nemico ha ritrovato coraggio grazie al nuovo alleato ah la tregua di capodanno non la fanno ve lo dico io su full metal jacket non la facevano guarda abbiamo parla, numeri sobbiamo da soccan Nova 6 Resnav la chiamava Nova 6 Dragovic e cosa sai del dottor Clark? Clark era l'ingegnere chimico che ha creato la formula della Nova 6 un perverso narcisista un genio del male il tuo contatto Jason Hudson era stato inviato a Callum per interrogare Clark te lo ricordi? che me lo chiedi a fare? visto che sai già tutto no Mason non sappiamo cosa significano i numeri e nemmeno da dove li trasmettano e allora chiedi a Hudson Callum era la sua missione l'ha interrogato lui Clark oddio questo tizio qua ok vabbè si dai l'episodio finisce qui direi però magari fammi finire ok ragazzi era tutto per oggi quest'ora l'episodio di Black Ops se l'idea di professe iscrivetevi rimanete un video dietro mettete mi piace si e tutte le robe alla prossima ok Grazie a tutti.